Yes, Sir, I can boogie, Baccarat, 808, questo era il Crystal History qui su Good Morning Milano 96.2 FM, Dub Plus, applicazione iOS, Android e il sito internet crystalradio.it ma soprattutto se volete rivedere, ascoltare e rivivere tutto quello che succede qui in trasmissione con noi e volete farlo dopo con calma e serenità con il vostro smartphone, con i podcast o con la vostra, anche con la Smart TV se volendo anche su quello potete farlo, c'è il sito goodmorning.milano.it perché ad esempio adesso iniziamo un'importante intervista che magari dovete perdere perché state per entrare al lavoro e potete riprendervela dopo diamo il buongiorno a Giovanni Molisse, buongiorno FP CGL Milano, buongiorno a tutti e tutti, buongiorno ben tornato, ben ritrovato, ricordiamo appunto Giovanni tu sei sindacalista della funzione pubblica CGL che segue le questioni appunto del comune di Milano, la funzione pubblica appunto è quello ci eravamo lasciati qualche, un mesetto fa più o meno, con alcune questioni aperte che finalmente abbiamo visto risolvere, giusto? no ecco appunto, immaginavo no, diciamo che la questione in questo momento principale è la questione relativa al diritto al pasto diritto al pasto? sì, nel senso che noi abbiamo scritto al prefetto, adesso dobbiamo andare in prefettura perché sostanzialmente l'amministrazione non ha rispettato quelli che erano gli accordi che avevamo preso già ben un anno fa perché è un'avvertenza che va avanti da più di un anno, come ti dicevo anche l'altra volta sostanzialmente succede questo, l'anno scorso noi in prefettura sempre, perché eravamo andati in prefettura anche in quel caso avevamo concordato con l'amministrazione che ci dessero il ticket cumulabile, che noi volevamo da subito avevamo concordato che ce l'ho dessero dopo un anno, dalla gara la gara doveva finire a novembre 23, quindi noi pensavamo che a novembre 24 avevamo il ticket cumulabile il ticket cumulabile, Giovanni, che è quello che hanno molti lavoratori il classico, adesso non vorrei dire un nome su tutti, ma il classico ticket restaurant di quello, di altri tipi di aziende, che si può utilizzare ovunque, che se non usi supermercati, che se non usi ce l'hai lì, ce l'hai cumulabile, quanto viene? 25, mi scari tre ticket, esattamente, e questa cosa noi la volevamo da subito, però siamo riusciti come sempre nelle mediazioni a dire, vabbè, dopo un anno dall'avvio della gara, che ripeto doveva terminare a novembre 23, quindi noi c'eravamo, come dire, convinti che fosse a novembre di quest'anno, invece ci sono state una serie di proroghe, una serie di proroghe, alla fine siamo arrivati, che la gara è partita, sostanzialmente il nuovo gestore, siamo partiti col primo di maggio di quest'anno, quindi il tutto è slittato di un bel po' di mesi, alla metà dell'anno prossimo, non al novembre di quest'anno, e già lì, ovviamente, diciamo che non siamo soddisfatti da questa cosa, ma oltretutto, cosa succede? Che loro hanno fatto una gara, appunto, di convenzioni, in cui noi col nostro badge possiamo andare a mangiare durante la giornata, ma cosa succede? Hanno pubblicato l'ultimo giorno utile, tra l'altro il 29 di aprile, l'elenco di tutti i locali convenzionati, per poi scoprire subito dal primo di maggio, insomma dal 2 di maggio, quando poi la stragrande maggioranza delle lavoratrici e lavoratori è andata in questi 1.259 posti convenzionati che hanno pubblicato il 29 di aprile, è un bel numero 1.259. È un bel numero se fosse vero, il problema è che non è vero, nel senso che alcuni di questi posti sono nell'elenco ma risultano chiusi, da tempo. Chiusi per sempre? Sì, chiusi, proprio posti chiusi. Alcuni non sanno di essere in convenzione, quindi sostanzialmente sono stati inseriti nella convenzione a loro insaputa, quindi andava in un locale, siamo andati in alcuni locali in cui ha detto no, ma noi non siamo convenzionati assolutamente, altri che non avevano ancora il post, perché servono un apposito post. Perché non è il post classico del banco, ma per esempio c'è un altro, una macchinetta. Esatto, un post specifico che alcuni non avevano, quindi c'era anche questo disagio qui, alcuni non sapevano ancora bene come dovevano comportarsi con questa convenzione, insomma è successo di tutto sostanzialmente. A quel punto, chiaramente avendo decine, per dire centinaia di mail ricevute nel giro di pochissimi giorni, telefonati, mail da parte di lavoratrice e lavoratore, abbiamo chiesto subito un incontro all'amministrazione che ce l'ha dato 23 giorni dopo. Quindi l'incontro l'abbiamo fatto il 23 maggio e non abbiamo risolto molto, nel senso che ci siamo resi conto che, a differenza di quello che pensavamo noi, cioè prima di pubblicare un elenco di locali, noi ci aspettavamo che l'amministrazione avesse fatto un controllo, nel senso avesse visto che questi locali erano locali effettivamente che avevano aderito. In realtà al 23 di maggio questi controlli ancora non erano nemmeno terminati, li stavano facendo, li abbiamo dovuti fare noi. Noi abbiamo chiamato come CGL, ci siamo messi al telefono, per esempio loro avevano messo all'interno dei 1.259 locali oltre un centinaio per celiaci e tutti quelli che hanno problemi alimentari, noi avevamo detto cavolo è una bella cosa, più di un centinaio a Milano. Telefonando abbiamo proprio preso l'elenco, cosa che avrebbero appunto dovuto fare loro, ma prima di pubblicarli, molti ci hanno risposto no, noi non facciamo questo servizio, anche perché una pizzeria che deve fare i ciliaci è un po' difficile, dovrebbe avere due forni. Ci sono, ma appunto hanno delle situazioni abbastanza particolari. Giovanni allora rimani qui con noi perché poi vorrei capire perché sei arrivato a questa situazione, cioè non bastava fare un bando dove si diceva alle società dovete fare il ticket accumulabile come tutte le altre società, non si poteva fare una roba del genere? Eh, si poteva fare, dopo ti spiego il perché. Allora poi mi spieghi il perché e ve lo spieghi dopo Sting, ti piace questa compagnia? Moltissimo. Ok, perfetto. Giovanni Molissi è sempre qui con noi dopo Sting a parlare della funzione pubblica, a parlare appunto di questo diritto al pasto che giustamente i dipendenti comunali stanno richiedendo ormai da tempo. Sting, Englishman in New York, invece qui abbiamo un affamato man in Milano, perché qui ragazzi non riusciamo ad avere un diritto al pasto per i dipendenti comunali, o meglio sì, nessuno muore di fame, diciamo fuori onda, perché vi lo portate da casa a volte però, cioè quello invece insomma ci sarebbe un contratto, ci sarebbero delle possibilità che andrebbero invece sanate diciamo in questo caso. La domanda che ti ho fatto prima di andare in pubblicità, cioè prima di andare in canzone era questa, però perché non si poteva fare una classica manovra, cioè un bando dove diciamo mettiamo le varie aziende, anche i privati vanno, adesso c'è anche Rovazzi che fa la pubblicità di una società di ticket su Instagram, cioè perché non si poteva fare quella cosa lì? Allora, se loro avessero dato il ticket cumulabile a tutte le lavoratrici e lavoratori, gli costava 14 milioni di euro, che è il doppio di quello che spenderà adesso, cioè 7 milioni di euro, perché ovviamente i ticket cumulabili non c'è nessuno che non l'avrebbe utilizzato. Hanno scelto di fare la strada di una convenzione col ticket cartaccio da consumare in giornata, anche noi eravamo d'accordo perché mangiare a Milano con 7 euro è un po' difficile, quindi abbiamo detto se abbiamo dei locali convenzionati che ai 7 euro attraverso una convenzione riusciamo a dare comunque un pasto completo, un pasto light alle lavoratrici e ai lavoratori, anche a noi andava bene. Perché al comune quanto costa poi questo pasto più o meno? Il comune praticamente mette 7 euro, che è il ticket che dà ogni giorno, però è stata fatta una convenzione che prevederebbe, secondo quello che avevamo firmato noi, che non è stato rispettato, che nel pasto light si aggiungono 2 euro, nel pasto completo, quindi primo, secondo eccetera, intorno, nel pasto completo si aggiungevano fino a 3,50 euro. Quell'aggiunta la fai tu? La fa il lavoratore, però quel fino a euro e 3,50 è diventato 3,50, cioè loro hanno comunicato ai locali che era 3,50, non è diventato fino a 3,50, questa è stata la prima cosa che non è stata rispettata, ma in più noi avevamo concordato, per esempio anni fa c'erano le vecchie mense al comune, dei posti dove tu andavi e mangiavi, quelle sono state tutte chiuse nel passare degli anni, però noi abbiamo detto, ma perché non riapirle in alcuni posti, quindi avevamo messo nero su bianco, quindi avevamo fatto un accordo su questo. Avete già individuato dove anche? Sì, avevamo individuato per esempio in Durando, in una serie di Durando, dove ci sono 700 lavoratori, lì si poteva aprire un bar. L'amministrazione ha firmato quell'accordo in cui avrebbe aperto il bar, a distanza di quasi un anno ci ha detto che ancora non hanno fatto niente, che forse tra due mesi c'è uno che è interessato, ma ancora non si sa niente. In più avevamo per esempio detto, nei cimiteri cittadini, dove è difficile trovare vicino dei locali da convenzionare, all'interno di alcuni cimiteri ci sono sempre stati i refettori, li apriamoli, l'abbiamo scritto anche quello nell'accordo che abbiamo fatto, anche lì zero studio di fattibilità, è rimasto tutto a distanza di un anno, quindi è ovvio che noi avendo firmato un accordo, avendo tutte queste questioni che non sono state rispettate, facciamo che andiamo dal prefetto e gli facciamo capire che quello che avevamo firmato davanti a lui, quindi davanti in prefettura, non è stato rispettato dall'amministrazione e poi sicuramente faremo delle azioni di mobilitazione in questo senso. Anche perché, voglio dire un'ultima cosa, le persone che hanno problemi alimentari, quindi celiaci, che hanno delle fragilità di problemi alimentari, sono quelle che al ancora più degli altri ci interessa, perché sono persone che da un mese praticamente non stanno riuscendo a consumare il pasto, se non mettendo di tasca proprio, perché ovviamente si recano nei locali che dovrebbero servire per loro, ma non trovano risposte. Ma una questione davvero che vogliamo seguire con attenzione, anzi tienici aggiornato, adesso quando è che andrete dal prefetto? Siamo convocati per oggi pomeriggio, però gira voce che l'amministrazione non riesce per oggi pomeriggio, diciamo così, lo sposteranno la settimana prossima, è una voce finora, al momento non è arrivato ancora niente di scritto. Nell'agenda pomeriggio c'è scritto prefetto. C'è scritto prefetto, però gira questa voce qua, vedremo se è vera. Speriamo che te lo faccia sapere in tempo, non che arrivi là e poi ti dicono che ci sei. No, diciamo che in mattinata dovrebbe arrivare se è confermato oppure no. Va bene, meno male, meno male. Senti, da sindacalista devo farti una domanda, perché oggi è il 31 maggio e venerdì c'è lo sciopero ATM, so che voi non vi occupate, tu non ti occupi appunto di quello, però insomma, sei un sindacalista, non ti occupi personalmente, però insomma, volevo chiederti questo, nel senso, lo sciopero ATM è quasi una tradizione milanese, sembra, soprattutto per noi giornalisti quando lo raccontiamo, e una grande scocciatura per i cittadini, che sbuffano quando va bene, se non anche peggio, nel senso, insomma, smattano un pochino e non c'è grande rispetto verso il lavoratore quando questo sciopera da parte di alcuni cittadini. Come possiamo fare per far capire che in realtà questo è proprio un diritto e dobbiamo forse comprendere meglio il perché, appunto, delle categorie che scioperano ci danno un po' fastidio, ma forse dobbiamo tollerare questa cosa? Guarda, le organizzazioni sindacali, quando usano lo sciopero, è l'ultima arma che possono utilizzare per poter far valere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Sì, tieni conto che noi anche al Comune di Milano lo usiamo raramente, ma per quello che ne so io, ripeto, non è una categoria che seguo, ovviamente loro fanno sciopero perché chiedono dei diritti sia da un punto di vista delle politiche occupazionali, cioè nel senso che le lavoratrici e i lavoratori di ATM, che tra l'altro non hanno partecipato al 100% del Comune di Milano, hanno dei salari bassissimi, sono dei salari bassi che non gli consentono di arrivare a fine mese, diciamo che su questi ci sentiamo molto vicini, anche noi come dipendenti comunali, perché siamo nella stessa situazione, in più hanno una carenza di organico, anche loro, drammatica e di conseguenza vorrebbero che venissero assunte un po' più persone, cioè in sostanza si ritrovano ad avere poche persone e un salario basso. Diciamo che queste due cose mi sento di dire che sono le stesse del Comune di Milano, dei dipendenti del Comune di Milano. Non esiste l'alternativa a questo tipo di sciopero, cioè non esiste la possibilità di far arrivare le proprie stanze a chi di dovere senza però dare un disservizio alla città. Ma loro le fanno arrivare, cioè anche noi, noi facciamo sempre, per esempio noi oggi andiamo in prefettura, se andiamo oggi o andiamo settimana prossima per il diritto al pasto, ma noi non è che ci svegliamo una mattina e decidiamo di andare in prefettura o alla fine di fare uno sciopero. Cioè le vertenze a volte vanno avanti anche per un anno. Questo è il diritto al pasto che stavamo raccontando prima, è in ballo da un anno e mezzo quasi. Queste cose ovviamente succedono anche in ATM, anche in altre situazioni. Il problema è che se tu non riesci a quagliare con chi è il tuo datore di lavoro e non riesci ad avere un salario maggiore nella contrattazione nazionale, delle politiche occupazionali che ti diano un respiro e meno carichi di lavoro, alla fine devi fare così per poterti far ascoltare. Il tema qual è? Che anche facendo così purtroppo in questa società odierna non si viene ascoltati lo stesso. E questa è la vera, secondo me, la vera cosa che è scandalosa. Poi passa anche un po' la notizia che voi invece in realtà andate al tavolo una volta, vi incazzate subito e allora sciopero. Perché poi passa questo un po' sui giornali, no? Non è mai così. Non è mai così. Ribadisco, noi adesso decideremo per esempio le forme di mobilitazione, ma tieni conto che questa avvertenza è iniziata nel marzo del 2023. Quindi se noi dovessimo arrivare, ipotizzo, ad uno sciopero, vuol dire che ci arriviamo dopo 16 mesi di vertenza. Cioè quindi non è che è una cosa che ci si sveglia la mattina. Mi siedo e faccio saltare il tavolo subito, no? Non succede mai. Cioè tutte le organizzazioni sindacali confederali, io parlo della CGL, prima di arrivare a fare uno sciopero facciamo sempre tutti i passaggi. Sempre. Poi alla fine ribadisco, in tutte le categorie, compresa quella della funzione pubblica, se non si arriva a un dunque, naturalmente bisogna tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche perché se non ci fossimo noi a tutelarli, sarebbe un vero problema in questa società, intendo. Infatti questo è un altro tema che prima o poi, Giovanni, affronteremo, che è subito quello dell'appartenenza appunto ai sindacati o comunque del riconoscere il ruolo dei sindacati dentro della società, subito magari dai lavoratori più giovani che magari fanno fatica ad avvicinarsi a questo mondo, perché insomma magari è una cosa un po' troppo lontana per alcuni, quindi bisogna far capire che insomma il sindacato tutela i lavoratori. Qualsiasi sindacato? Sì, noi tuteliamo i lavoratori, adesso tra l'altro ne approfitto per dire che la CGL sta raccogliendo le firme per quattro referendum, proprio per maggior tutela delle lavoratrici e lavoratori e anche per la questione degli appalti, subappalti. Adesso non voglio entrare nel merito, però ci sono quattro referendum su cui stiamo raccogliendo le firme come CGL, proprio per tutelare le lavoratrici e i lavoratori e il lavoro e quindi dare maggiori garanzie e maggiori diritti alle lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie in questo caso e non sto parlando solo della funzione pubblica. Chiarissimo, allora Giovanni ti ringrazio tantissimo ancora passato con noi anche questa mattina per averci raccontato questa storia, tienici aggiornato e facci sapere come andrà allora, va bene? Ovviamente vi aggiorno, sicuramente. Grazie mille Giovanni Molisse, segretario della FPCGL di Milano? Milano. Milano, 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 Milano. E chi lo sa, nella vita non si può mai sapere. Mi piace tanto Giovanni, devi tornare qui, dobbiamo fare anche un appuntato dove facciamo scuola di sindacato, dove spieghiamo bene che cosa fate, perché serve, perché è importante che i lavoratori appunto riconoscano il vostro lavoro. Molto volentieri, quando volete, anche perché per me il sindacato è veramente importante. Grazie mille Giovanni, allora andiamo con la musica e poi torniamo qui dopo il giornale radio, sempre qui, Good Morning Milano su Crystal Radio. Grazie mille Giovanni.